carissimi ma soprattutto carissime bentornati a 80 passione e sì mi sono preso quasi dieci giorni di ferie prima di ricominciare a parlare di calcio perché a me piace il calcio giocato poi c'erano così tanti avvenimenti importanti in contemporanea tra cui le fasi finali del Roland Garros e le finali NBA con la vittoria da un lato del Rafa Nadale dall'altro dei Los Angeles Lakers che insomma scusatemi se mi sono assentato ma sostanzialmente per me parlare di amichevoli della nazionale o di partite quali la Nation League trovo un po' il tempo che trova nella vita ci dicono sempre che dobbiamo essere positivi purtroppo ultimamente questa parola non va presa alla lettera perché fatto sta che l'Inter ha sei positivi in casa al Covid e il Milan se non mi sbaglio due e tra tre giorni potenzialmente si dovrebbe giocare il derby in ultimo anche il giocatore più rappresentativo al mondo o il secondo fate voi sto parlando di CR7 è stato ritrovato positivo durante il suo ritiro con il Portogallo quindi al momento è in isolamento in Portogallo e non si sa forse all'inizio della prossima settimana potrà rientrare in Italia quindi sicuramente non una bella notizia per la Juventus che sarà chiamata tanti incontri ravvicinati a breve che cosa dire si avvicina questo derby in maniera molto molto strana perché come si suol dire in un derby non c'è mai una squadra favorita molte volte i pronostici possono essere completamente ribaltati ho letto stamattina dichiarazioni di Kakà che si reputava fiducioso insomma il grande ex un grandissimo a prescindere insomma dai dai colori rossoneri o nerazzurri o quando ha giocato per il Real Madrid un giocatore che sempre l'ho adorato lui ha detto che crede che sabato il Milan vincerà 2 a 1 chi lo sa appunto questo è quello che vi chiedo followers di questo canale a prescindere da quello che sia la vostra squadra che cosa pensate chi vincerà questo questo derby l'Inter che sta perdendo insomma quasi tutti i suoi pezzi al momento in isolamento o il Milan non si sa questo Milan con o senza Ibrahimović per il resto al momento la situazione è molto particolare non si sa se eventualmente si si finirà per introdurre insomma uno stop forzato di un paio di settimane io credo personalmente che la soluzione migliore sia quella di prendere come esempio lo svolgimento della della NBA ossia creare una bolla nella quale prima vengono finiti tutti i campionati nazionali poi si sta a caso mai due mesi si decide una sede si giocano le partite di Champions e lo stesso per quanto riguarda l'europeo altrimenti secondo me da questa situazione non se ne esce anche perché ogni giorno c'è un regolamento a seconda di quanti giocatori debbono essere positivi per poter chiedere il rinvio di una partita o alla fine l'isolamento deve durare due settimane sette giorni dieci giorni non si capisce più niente sembra la settimana enigmistica negli altri competizioni nelle altri tornei come è stato fatto un po nel tennis uguale appunto nella palla canestro fortunatamente insomma sembra che la situazione sia stata contenuta anche se notizia dell'ultima ora anche lo stesso tennista Fabio Fognini è il risultato positivo al covid ma questo quando insomma lui ha lasciato Parigi è rientrato a casa è lo stesso David Goffin niente con questo è tutto iscrivetevi mi raccomando al canale è fondamentale se volete vedere questo derby e se volete insomma che il campionato continui iscrivetevi a 80 passione è veramente importantissimo vorrei soltanto chiudere questo questo video con un grandissimo abbraccio e un grandissimo supporto e le mie più sentite condoglianze a Francesco Totti che sfortunatamente qualche giorno fa ha perso il papà Enzo Totti che veniva chiamato da tutti con il soprannome di lo sceriffo una persona a quanto pare molto molto genuina simpaticissima insomma tutte le gag col figlio che insomma sembrerebbe che Francesco Totti fosse sempre chiamato dal padre insomma non sei buono tuo fratello è meglio di te non vali niente quindi è stato anche molto carino vedere il suo il suo tweet rilasciato insomma un paio di giorni fa in cui lui ha detto sto insegnando ai miei figli tutti i valori tutto quello che tu mi hai trasmesso e anche ai tuoi insomma quelli che sono i tuoi nipoti grazie mille sceriffo ti ti voglio bene quindi mando un un bacione a tutta la famiglia Totti è un giocatore che onestamente a prescindere che sia stato il simbolo della Roma io ho sempre ammirato sul sul campo e ammiro sempre di più anche fuori dal campo per le sue attività nel sociale non in ultimo insomma quando andate a visitare all'ospedale quella quella ragazza ilenia finita in coma che si è risvegliata insomma ascoltando attraverso le parole del capitano giallorosso quindi con questo è tutto rimanete sintonizzati spero di poter produrre altri video nei prossimi giorni quando ricomincerà il campionato perché a me piace sempre parlare di sport giocato a prescindere da tutto vi saluto rimanete sintonizzati ciao